Buonasera a tutti, salve, questa è la mi cucina, benvenuti in questa diretta da in vivo, direttamente da mi cucinotto come vedete alle mie spalle c'è la mia figliola, la sta mangiando, gli è preso un buco allo stomaco, gli è venuta una fame d'altronde con una cucina come la nostra, sempre un pezzo avanti diciamo rispetto alle vostre di cucina che non vi sapete far da mangiare gli è facile cadere in tentazioni adesso, oggi vi spiegherò come si fa a fare il vero pollo diciamo alla grossetana io sono di grosseto d'origine e vi farò vedere questo pollo il pollo alla grossetana è una ricetta facile, fattibile per tutti, per poveri, piccini e grandi allora in mente la mia figliola mi sta svuotando il frigorifero, gli ha fame, gli ha preso fame, gli ha preso fame, che ci vuole fare, gli ha fame allora, sedano, limone, carota e cipolla, ho il dito e il guanto di me dottore, voi andate a pigiare nel barattolo vedete, in questo gli è la cipolla, la famosa cipolla a darci d'osso e andiamo a vedere le nostre spezie la nostra spezia di cinigiano e l'olio castrol, sempre olio castrol 1540, mi raccomando allora, con un paio di guanti da dentista, voi andate a pigliare un cesto di sedano e voi ce lo infilate dentro, voi ce lo schiaffate dentro poi voi pigliate la carota, e voi, diciamo, andate a introdurle nell'orifizio anale così, perfettamente, vedete, se non c'entra voi ce lo schiacciate, voi ce lo pigiate come sempre in questo tegame, diciamo, in questo tegame, che una volta gli era anche la ciotola di cane la carota a pezzi, il sedano a pezzi, riproponetelo sotto, adagio ragazzi, ma io so il fatto da mangiare, ma io so se qualcuno gli ha detto di qualcosa, me lo venghi me lo venghi a dire, me lo venghi gli pieghi la testa e gliela spacco con un pancare ma tu lo dici te, tu lo dici te non te lo vedete se non te lo sai se non te lo sai, non te lo puoi dire, tu lo puoi dire questa è la ricetta antica, è vero, ricetta antica, grossetana vedete, voi pigliate il guanto e voi gliene andate a schiacciare a schiacciare tutte queste spezie abbondantemente, mi raccomando, non avere i bracini corti e si va a mettere il limone il limone gli dà sapore, gli dà acidità gli leva, diciamo, il rancido questo è un pollo che io lo lascio a marinare per dire, a volte, ce n'è uno per dire lascia a marinare dall'81 sanno una sega a Siena per dire come si fa a fare il vero pollo alla grossetana sanno una sega a Rezzo per dire solo noi i veri grossetani, diciamo, anche se io non sto più lì da tanti anni diciamo, si sa fare questa è una ricetta, infatti, della nonna della nonna, della minonna nata proprio a Arci d'Osso con il papo di Ciligiano e gli aveva la casa a Grosseto quindi, come la so fare io, non la so fare nessuno se c'è qualcuno, e a dare di qua vedete, oh, ecco qui, diciamo, il piatto a fine cottura io l'avevo precedentemente già preparato per voi apposta per voi vedete, va carbonizzato una volta decarbonizzato lo prendete e lo date al cane, lo date io lo consiglio come piatto unico accompagnato da dei fagiolini e un risottino a funghi della sua morte le ci stanno proprio bene come accompagnamento diciamo, proprio tipicamente a Grosseto usa e fa lo così proprio con il risottino a funghi e dei fagiolini questo è tutto questa è della mia cucina io lo faccio così se c'è qualcuno a dare di qualche cosa venghi, mi sono il campanello esco io, lo faccio e lo carmo e ti ghiaccio perché io soffro da mangiare anni con questo è tutto ci vediamo alla prossima puntata cliccate like alla mia pagina e ci vediamo qualche ricetta se qualcuno mi può chiedere qualche cosa mi mandi pure un email sono lieta di rispondere arrivederci bucaioli